Cari amiche e cari amici, oggi parliamo del grande mercato editoriale degli autori emergenti. Benvenuti sul canale Wall-E, non sai che Wall-E non c'è problema? In descrizione trovi il link al video che ti spiega chi sono. Mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanella, così verrai sempre informato quando escono i miei nuovi video. Questo video me l'ha ispirato l'amica Sara Gavioli, vi metto il link in descrizione al suo video, magari ve lo metto anche qui se ci riesco, che parla delle recensioni a pagamento. Ci pensavo da tanto tempo a fare questo video perché in un mercato in gravissima crisi come quello editoriale c'è una nicchia veramente molto fiorente che è quella degli autori emergenti. Questo video sarà un po' più serio del solito perché tratto un argomento secondo me importante e non voglio parlare troppo in francese non voglio far sminuire nessuno, quindi vorrei far capire alcuni meccanismi e se è possibile aiutare autori e autrici emergenti a non farsi spennare come Pulli. Quindi perdonatemi se non sarà il mio solito tono canzonatorio, giocogliere un po' volgare perché questo argomento sia molto importante. Il mercato di editoria come dicevamo in grossa crisi, ci sono pochi lettori, vengono pubblicate 80.000 libri all'anno, pochi leggono, poche copie vendute se non erano i casi. Eppure c'è un fiorire di servizi per gli autori a pagamento. Se frequentate gruppi di autori, autrici emergenti, troverete veramente una quantità indescrivibile dietro correzioni di boss, case editrici, blogger, tutto quello che vuole. Tutti questi sono lì a vendere servizi a autori ed autrici emergenti. Allora, piccolo chiarimento, io sono convinto che un autore o un'autrice debba, una volta scritto proprio il manoscritto, o insomma come vuole lui o lei, debba comunque poi utilizzare o rivolgersi a un editor professionista a pagamento per migliorare il proprio libro. La correzione di boss può farla direttamente lui, però normalmente quello lo fa nel caso di editrici. Quindi non è assolutamente una campagna contro editor, correzione di boss, gestione di corsi. Vorrei solo farvi capire eventualmente come scegliere, come cercare di non farsi pelare per niente. L'autore e l'autrice emergente, ho notato, che spesso sono alquanto non presuntuosi, alquanto prevenuti. Cioè l'aver fatto gli elementari, a volte le medie, rende tutti convinti di essere dei grandi scrittori. E la prima cosa da fare è accorgersi che non è assolutamente vero. Siamo tutti, siamo tutti dei pessimi scrittori. E quindi dovete cominciare, come ho già detto in un altro video, a diffidare di chi vi fa i complimenti, perché chi vi fa i complimenti non vi vuole bene. Mettetelo in testa. Chi vi fa i complimenti è una persona che non gliene frega niente di voi. E ci sono due motivi. Uno vuole togliersi in fretta dalle palle la vostra richiesta di commento. Due, vuole vendervi un servizio. Come vi dicevo nell'altro video, qui, su come trovare un editore, ricordatevi che le uniche persone che possono garantire la pubblicazione sono appunto gli editori. Non esistono editor, non esistono agenti letterari, non esistono correttori di bozze, non esiste gente che fa corsi. Non esiste niente di tutto ciò che possa garantire la pubblicazione. Ho cominciato a eliminare tutti quelli che vi propongono servizi per dire, poi così ti pubblicano. No, assolutamente no. A meno che non sia un editore, non ti pubblicano. Gli autori e autrici emergenti sono spesso degli sprovveduti. Sprovveduti nel senso che non conoscono minimamente il funzionamento del mercato editoriale, non conoscono come funziona la vendita dei libri, non sanno minimamente che un libro comunque ha delle regolette da seguire per essere pubblicato e poi venduto. Troppo spesso siamo convinti di essere dei geni incompresi, che nessuno ci capisce, noi siamo fantastici. Io lo so che nella maggior parte dei casi non convincerò nessuno che sta sbagliando, però se riesco a convincere anche solo uno o due persone abbiamo il rischio e la fortuna magari di trovare tra un anno o due anni uno o due libri bellissimi da leggere. Ve lo auguro di cuore di riuscire a scrivere bellissimi libri che tutti vorremmo leggere. Come funzionano questi inviti a farvi buttare via soldi? Iniziano sempre con dei complimenti. Oh che bello che è il tuo manoscritto, ma che bravo, che brava che sei, mi hai toccato il cuore, fantastico, basterebbe poco per raggiungere la perfezione. Questo è l'approccio tipico di chi ti sta per spillare dei quattrini. Credetemi, non esiste che il vostro manoscritto sia bello, perfetto, che abbassino due cose, non esiste, non c'è. Non siete quel caso su miliardo, come potrebbe essere la rolling, visto che viene sempre citata. Non siete la rolling, credetemi, fatevi una ragione, non siete la rolling. Non siete quel caso su miliardo, quindi chi vi fa i complimenti e lo fa solo per fregarvi i soldi. Cominciamo dalle case editrici a pagamento. Sì, molte chiamano tipografie, in realtà no, perché sono scritte a lie e quindi sono case editrici a tutti gli effetti. Case editrici vi vengono a dire quanto sei bravo, quanto sei bello, come hai scritto bene il tuo manoscritto, saremmo onorati di averti nella nostra scuderia, nelle nostre collane. Ci paghi top e noi ti pubblichiamo. È tutto legale, non c'è assolutamente nulla di illegale, quindi chi dice truffe vi sta prendendo in giro. Però, di base cosa succede? L'unico servizio che vi offrono è un servizio di tipografia, a volte anche un po' costoso. Quindi, a meno che voi non siate dei maghi del marketing e oltre a mamma, papà, zia, amici, riuscite a coinvolgere altre persone a comprare il vostro libro che avete pubblicato, avete pagato, il cliente siete voi, non fatelo, cioè perché buttereste via i vostri soldi e non buttereste nessun successo. Sì, aver pubblicato a pagamento è uno stigma sociale, nel senso che poi, se vi volrete rivolgere a case editrici non a pagamento, diciamo dei tradizionali, questo rimarrà come il vostro stigma, cioè non è una cosa positiva vista dall'esterno. Però, decidete voi se volete pubblicare a pagamento. Come dice giustamente un mio amico che fa l'edito, dice se hai la necessità di avere il libro col tuo nome e tutto, fallo, non è una cosa grave, sono soldi tuoi, fai benissimo, quindi non viverlo malissimo. Sappi che il pubblico pagamento poi è più difficile con la case editrici di prendere in considerazione. Corsi, la vendita dei corsi. Allora, io sono un fermo sostenitore dei corsi di scrittura, ne ho seguito uno che mi è piaciuto molto e che mi è stato molto utile. Ti dico, fai attenzione, scegli con cura i corsi, che non tutti danno le stesse cose, non tutti hanno un approccio corretto. L'approccio corretto qual è? Cerca di vedere chi ha fatto questi corsi, sentire i pareri, cosa dicono in giro, compagnia bella, e su quello poi basati. Non basati solo sul prezzo, perché hanno detto che un corso che costi tanto, siamo stati adutati via, che un corso che costi poco sia un affare. Analizza le cose per bene. No, non ti dirò che corso ho fatto, se vuoi lo scopri, perché lo scopri facilmente, non è che è un segreto. E no, non chiedermi pareri su altri corsi o altro, perché non te li do. Concorsi. Molte di queste case editrici a pagamento, ma anche non solo loro, spesso fanno concorsi per racconti e poesie, dove o c'è una quota da pagare per partecipare, comunque di base vincono tutti, nel senso che poi le poesie vengono pubblicate in raccolte e ogni autore si impegna a comprare due, tre, cinque copie, dipende dal concorso. Credetemi, probabilmente potete evitare di spendere quei soldi, perché non vi porterà onestamente nulla di interessante per il vostro futuro. Dubito che uno scout, un agente letterario serio, una casa editrice, vada a leggere queste raccolte a pagamento fatte in questo modo. Ma allora non devo partecipare? No, ci sono concorsi seri, ci sono concorsi molto seri, cercali, sono quelli delle grosse case editrici, c'è quello del Gialli Mondadori, di Urania, io scrittore credo che è una grossa casa editrice, ci sono vari concorsi che possono essere interessanti, sia per farti notare, sia per capire eventualmente qual è il livello a cui sei come scrittore o scrittrice, cioè come fare a migliorarti. Editor, nei gruppi di scrittore riceverai un sacco di proposte in privato di editor che si propongono per editarti il libro. Allora, questo è un argomento abbastanza complesso, io ho un editor fantastico, ho un editor però che lo conosco da un po' di tempo, so che scrive molto bene e soprattutto ha le idee uguali alle mie su come si scrive, quindi mi sta aiutando tantissimo, viene dalla stessa scuderia da cui vengo io come corsi, quindi abbiamo le idee uguali su come si deve scrivere, quindi mi sta aiutando tantissimo. Però scegliere un editor non è una cosa semplice, perché se siamo scrittori emergenti, scrittrici emergenti, non abbiamo questa grossa esperienza, non conosciamo il settore, non conosciamo gli editor. I costi variano tantissimo perché ci sono da 2-3 euro a cartella fino a 10-15 euro a cartella nel corso dell'editing. La cartella è di base convenzionalmente un foglio di 30 righe di 60 caratteri l'una, quindi 1800 caratteri e spazi inclusi, in alcuni casi viene considerato 2000 caratteri. Fondamentalmente la convenzione dice questo. Come valutare un editor? Questo è molto difficile. L'editor vive di queste cose, è il suo lavoro, quindi capire se ti sta mentendo o sta facendo il tuo bene non è facile. Fondamentalmente quando un editor vede un lavoro fatto male, cioè un manoscritto veramente pessimo o dove è difficile far fuori qualcosa di buono, dovrebbe dirtelo, guarda non ti faccio l'editing, è inutile che butti i soldi perché comunque non tireremmo fuori niente. È meglio magari se prima, non so, fai un corso di scrittura, fai questo o quell'altro. Non so quanti editor facciano questo discorso e non so neanche se poi lo scrittore o la scrittrice emergente accettano questo tipo di commenti, invece vanno a cercare un altro, questa qui è una stronza, questa qui è una stronza, non capisce niente, vado da un altro. Però questo gli darebbe già l'idea di un buon editor. Oppure dopo aver letto, perché deve prima leggere per capire il lavoro che deve essere fatto sul tuo testo e quindi farti poi un vero preventivo. Oppure dice, guarda, secondo me è difficile riuscire a tirare fuori un buon lavoro da questo, però se lavoriamo in questo modo, in questo altro modo, modificando tutta questa serie di cose, è possibile ottenere fuori un lavoro come si deve. Tu te la senti di farlo? Se invece ti dici, ah bello, ok dai, mettiamoci sotto, facciamo questo e quell'altro, vedrai che poi tiriamo fuori un lavoro bello per essere pubblicato. Allora io comincerei a preoccuparmi perché, ribadisco, di Rowling ce n'è una, una su un miliardo, perché non credo che ci siano altre sette scrittori o scrittrici che hanno venduto tanto quanto lavorare nel mondo negli ultimi venti anni. Noi non scriviamo bene, è inutile che ce lo nascondiamo. Per quanto possiamo credere, per quanto ci dica la mamma, il papà, la sorella, il fidanzato, la fidanzata, la moglie, la marito, l'amica, l'amico del cuore, che siano benissimo. Credetemi, non scriviamo bene. Il primo libro, anche se riusciremo a pubblicarlo, non sarà il nostro libro migliore. Il nostro libro migliore sarà l'ultimo, perché ogni volta che scriveremo un libro miglioreremo sempre di più. Quindi io diffiderei da un editor che dice che il libro è già buono e compagna bella, perché non è possibile, ha senz'altro dei difetti, ha senz'altro dei limiti su cui puoi lavorare. Quello che c'è da capire è quanto bisogna lavorarci. Io ribadisco un concetto, per me l'editor è fondamentale, quindi spero che questi suggerimenti non siano visti né come offesa a passare degli editor, perché io riconosco un grandissimo lavoro, un importantissimo lavoro quello degli editor, e spero che sia un modo, un metodo per poter comprendere quanto un editor può aiutarvi nel vostro romanzo, nel migliorare del vostro manoscritto. Correzioni di bots. I correttori di bots sono quelli che controllano gli errori grammaticali. Quello di base è un lavoro che poi potrebbe fare la casa editrice, se lo trovate. Se autopubblicate magari trovatene uno, una correttrice di bots che vi fa questo servizio. Book blogger, book video blogger, booktuber, compagnia bella. Sappiate che io seguo molti booktuber, cioè persone che hanno canale youtube che parlano di libri, e praticamente la quasi totalità non accetta più libri da vedere da recensiere da parte di scrittori emergenti, perché erano stufi di farsi insultare, sì, erano stufi di farsi insultare. Cioè in pratica, da quello che ho capito, molti autori emergenti mandavano il libro, il booktuber diceva guarda no, non lo recensisco perché non è scritto bene, perché questi discorsi non mi piacciono parlare mai del libro, e questi insultavano, minacciavano, dicevano cose allucinanti. Evitate di contattarli se non siete più che sicuri del vostro libro, poi se il vostro libro lo venderà sarà bello, vi contattaranno loro, cioè faranno loro in modo di trovarli per potervi recensire. Come vi dicevo all'inizio del video, questo video è nato da video della mia amica Sara Gavioli sulle recensioni a pagamento. In pratica ci sono canali Instagram, persone che hanno canali Instagram, piuttosto che blog o altre cose, che vi contattano dicendo possiamo collaborare, tutto, e poi vi fanno il tariffario, 50 euro per la recensione, 50 più 70 per l'intervista e compagnia bella. Guardate il video che vi linko, perché ve lo spiega per benino la Sara, perché non dovete accettare. Fondamentalmente è pubblicità, dovrebbe essere dichiarata pubblicità, fatturata, insomma tutta una serie di cose e probabilmente la maggior parte dei casi hanno anche follower finti, quindi sono numeri anche sballati, piccoli, che non vi portano assolutamente nessun tipo di vantaggio nella promozione del vostro libro. Quindi abbiamo parlato di case editrice a pagamento, abbiamo parlato di concorsi letterari, abbiamo parlato di editor, corsi di scrittura creativa, di collezioni di bots, di booktuber, di blog, di Instagram. Diciamo che abbiamo... Ah no, scusatemi, ecco, mancavano anche gli agenti letterari. Io vi consiglio, magari se riesco ve lo metto qui in descrizione, il link a un ebook che ha scritto Francoforte, che è un editor Mondadori di Giale Mondadori Urani e altre cose, sulle agenzie letterarie. Ci sono le mie agenzie letterarie, come funzionano, d'Italia come funziona, eccetera, eccetera. Allora, anche le agenzie letterarie, vi do una cosa fondamentale, le agenzie letterarie guadagnano sulle vendite del vostro libro, quindi facciamo finta che voi abbiate il 10% di royalty sul vostro libro, l'agenzia letteraria guadagna una percentuale su questa vostra percentuale. Ce ne sono alcune che vi contattano e vi dicono, ah, noi siamo un'agenzia letteraria, non hai ancora scritto niente, sei bravissimo, le solite cose di prima, complimenti e tutto, e poi ti chiedono una fee mensile per rappresentarti. Ecco, io lascerei perdere. L'agenzia letteraria vale se l'agente letterario è una persona conosciuta in ambiente editoriale e che quindi parla con gli editor delle care editrici, quelle soprattutto che pubblicano e vendono in libreria. Gli altri agenti letterari possono aiutare in altri modi, magari con dei servizi e varia. Concludo con un'ultima cosa, cioè la scheda di valutazione del vostro libro. Questa l'ho trovata anche nell'ebook che vi ho consigliato di Francoforte sulle agenzie letteraria. Io vi dico come penso di muovermi io. Io penso di finire di scrivere il mio libro, penso di finire l'editing con il mio editor. Poi quando abbiamo visto, riletto e tutto, scelgo un agente letterario tra quelli suggeriti da Francoforte, di quelli che si occupano del genere che sto scrivendo, in compaglia bella. Quasi tutti gli agenti letterari prevedono una valutazione a pagamento del romanzo, del manoscritto, quindi sceglierò, manderò e chiederò la valutazione. Anche perché in questo modo ho due vantaggi. Uno, se il mio manoscritto dovesse piacere, dovesse andare bene al, come si chiama, agente letterario, il 99% mi dirà no, non pagare niente, questo è il contratto ti porto io da un editore a pubblicare. In caso contrario mi troverai una bellissima valutazione del mio romanzo fatta da un lettore professionista, quindi una persona che ci capisce, dove mi dirà i pregi, i difetti, le cose da migliorare, la commercialità, il perché non può andare bene, e che sarà quindi comunque un investimento sempre su me stesso per capire dove ho sbagliato. Quindi no, non è vero che gli agenti letterari ti rubano i soldi per la valutazione del tuo manoscritto. In realtà gli agenti letterari che ricevono anche loro con tonnellate di manoscritti in questo modo riescono a fare un pochettino di cernita di quello che ricevono e soprattutto possono far leggere approfonditamente i manoscritti da autori professionisti, cosa che una casa editrice non può fare. La casa editrice vi scarta subito, se dopo due pagine il vostro romanzo non piace viene scartato, anche alla sinossi viene scartato. Invece con l'agente letterario potete avere una lettura completa del libro con un'analisi vera, fatta bene di quello che è il vostro libro. Concludo dicendo le ultime due cose. La prima e più importante, imparate ad accettare le critiche. Non accettate i complimenti, non fermatevi i complimenti perché chi vi fa i complimenti non vi vuole bene. Accettate invece le critiche, anche le peggiori, anche quelle che poi pensate che siano un insulto. Cercate di comprendere perché siete stati criticati in quel modo, che non è perché siete alti, bassi, biondi, mori, brutti, belli, grassi, magri. No, è perché c'è qualcosa che non va nel vostro manoscritto. Accettate le critiche, analizzate e fate un grosso lavoro su voi stessi, su voi stesse per capire dove avete sbagliato. E la seconda cosa più importante, spero che abbiate capito il senso di questo video e spero veramente di potervi essere stato d'aiuto. Io sto cercando di migliorarmi come scrittore, come persona, facendo tutte le cose che vi ho suggerito di fare. Se non siete d'accordo, mi spiace, credetemi, questo è il modo giusto per andare avanti e per pubblicare. E vale sia se volete pubblicare in autopubblicazione, sia se volete andare con case editrici. Un bel libro, scritto bene, con una bella trama, fatto come si deve, è un libro che piacerà, che venderà e vi renderà molto felici di voi stessi, perché le persone non apprezzeranno. Siamo autori e autrici emergenti, non siamo polli da spennare. Mettetevi in testa questa cosa. Gli scrittori e scrittici emergenti sono visti come polli da spennare, come persone non particolarmente furbe o conoscitori, conoscitrici del mercato editoriale, del suo funzionamento. E quindi non dobbiamo essere per loro polli da spennare. Difendiamoci, scegliamo con cura chi ci offre i servizi e non facciamoci spennare, perché poi finiamo in forno. Buttiamo via soldi e non teniamo nessun risultato. Non siamo polli da spennare. Grazie a tutti di aver seguito anche questo video, mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, schiacciare la campanella, così riceverete tutte le informazioni ogni volta che esce un nuovo video. Ciao ciao!